in quel tempo gesù disceso con i dodici si fermò in un luogo pianeggiante c'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la giudea da gerusalemme e dal litorale di tiro e di sidone ed egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli diceva beati voi poveri perché vostro è il regno di dio beati voi che ora avete fame perché sarete saziati beati voi che ora piangete perché riderete beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo rallegratevi in quel giorno ed esultate perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione guai a voi che ora siete sazi perché avete fame guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti parola del signore sia lodato gesù cristo carissimi fratelli questo è il vangelo di oggi di domenica 13 febbraio 2022 il cosiddetto vangelo delle beatitudini laddove la giustizia divina riequilibrerà una vita fatta di dolori di angosce magari anche sfortuna e in qualche modo una vita che è stata così all'ombra di quella che è la vera esistenza il vero vivere oppure il vivere che l'essere umano si prefigge in questa vita il signore ti dice non avere paura perché se in questa vita sulla terra non hai avuto quello che tu ti potessi aspettare o non hai avuto quello che forse giustamente ti potevi attendere sicuramente nella vita eterna avrai il centuplo avrai sicuramente un qualche cosa che magari tu stesso non ti aspetti è la stessa cosa che poi è stata ripetuta anche da san paolo quello che sarà il il regno di dio noi abbiamo solo una minimissima percezione quindi dobbiamo aspettarci un po un po di tutto soprattutto in positivo tanto più che se noi dovessimo veramente scrutare quelle che sono le scritture noi il purgatorio non è che riusciamo bene ad individuarlo eppure nella grandezza del signore abbiamo questa opportunità ancora di poterci salvare e il signore appunto attraverso il purgatorio ci dà la possibilità una possibilità ulteriore di poter entrare nel regno dei cieli questo per dirci che sì noi possiamo anche cercare di scrutare le scritture ma ci sono cose che il signore non ci ha detto magari non li ha detto neanche i mistici che sono lì che ci attendono quindi non dobbiamo assolutamente mancare di fiducia dobbiamo prendere questa vita come se fosse un passaggio naturale dalla nascita alla morte alla rivivere ancora e credere nelle promesse del signore il signore ci ha fatto questa promessa ci ha detto attenzione non pensare che quello che stai vivendo tu sia vano ogni sforzo che fai è comunque uno sforzo che tu puoi donarmi donare nella tua semplicità donare anche nella capacità di saper attendere che il signore ti possa dare qualche cosa e poi appunto capire che la nostra vita è nelle mani di dio e che la felicità è un qualche cosa di fondamentalmente effimero ricordiamoci che l'altro ieri abbiamo celebrato la festa di lourdes l'apparizione di maria santissima a santa bernadetta la quale ha detto io non ti posso garantire la felicità sulla terra ma te la posso garantire in cielo ecco quando noi appunto vogliamo scrutare come dicevo prima le scritture e vogliamo capire che cosa possano essere queste beatitudini che sono un marchio piuttosto pesante quello che tu hai avuto qui non l'avrai la e forse anche questo da reinterpretare in una maniera magari non così drastica ma sicuramente la madonna ci dice attenzione perché la felicità è un dato acquisito nel regno dei cieli la mia esperienza per quanto possa riguardare questa vicenda evangelica io la potrei trasporre in un momento in cui sono andato a montichiari all'apparizione delle fontanelle ed eravamo davanti al luogo dove la madonna ha posato i piedi su una scalinata in quel momento eravamo io da una parte e un signore dall'altra questo signore è molto distinto aveva una bentley e ci siamo guardati e abbiamo sorriso entrambi no io ero praticamente si vedeva che erano una persona così che non è che avesse la stessa classe una persona molto umile e in quel momento appunto si sono incrociate due persone completamente diverse l'uno dall'altro ma vivevano quella stessa intensità o quello stesso amore che avevano per la vergine quindi assolutamente quel signore io non penso che verrà privato della vita eterna o dovrà subire delle delle menomazioni o delle situazioni che gli verranno private solo perché comunque ha avuto degli agi in questa vita probabilmente lui questa questa vita facoltosa che oggi vive potrà sicuramente donarla a qualcun altro e quindi lui può essere un mezzo per poter donare questi soldi o queste opportunità le persone che hanno bisogno ma in quel momento quando noi due eravamo davanti alla scalinata dove la madonna è apparsa in quel momento eravamo uguali non c'era differenza tra me e lui poi nella vita è vero ci sono delle degli abissi ma in quel momento davanti alla madonna eravamo tutti e due uguali e questo ci fa capire che appunto davanti a dio nel giudizio particolare in cui noi subiremo al momento del trapasso saremo tutti uguali non ci sarà nulla che ci porteremo dalla vita per questo alla fine che tu possa essere ricco che tu possa essere povero ricordati sempre che comunque la vera gioia sta nel paradiso qui noi abbiamo dei beni magari anche tanti ma questi beni ricordiamoci sempre che sono stati dati a noi e concessi a noi in gestione per poter darne anche le altre persone se io dovesse avere 100 euro quei 100 euro me li tengo e non gli dessi almeno una parte quello che per me è il superfluo alle altre persone senza dover essere così andare oltre veramente quei 100 euro che mi sono stati donati sarebbero stati veramente un qualcosa che non avrebbe fatto bene né alle beatitudini mie e neanche le altre persone quindi meditiamo sempre quello che possa essere il concetto di beatitudine il concetto di ricchezza e anche il concetto di altruismo quindi possiamo già vivere un anticipo di beatitudine qui se riusciamo a essere utile anche per il prossimo sia lodato gesù cristo carissimi fratelli in molte persone che girano per il canale ritrovo più o meno la stessa sensazione persone che soffrono che soffrono anche terribilmente e che vedono nel momento presente o anche nei momenti appena passati la la mancanza o la percezione che dio non sia con loro e quindi è mio dovere portare a loro una preghiera o pregare insieme con voi il salmo 6 affinché veramente si possa in qualche maniera chiedere al signore di intervenire presso loro ecco c'è una frase molto importante all'interno del salmo et anima turbata est vad se tu domini usque qua in cui appunto invochiamo il signore e dirgli signore dove sei vieni qui la preghiera è fatta in latino perché la chiesa la nostra madre chiesa ha creato lei stessa il latino come lingua universale domine né in furore tuo acquas me neque il nira tua ovitias me miserere mei domini guognam non firmus sum sana me domine guognam conturbata sua ossa mea et anima mea turbata est valte e tu domini usque qua e verte le donne peri anima mea salva me propter misericordiam tua poniam non esti morte ricordazio tui il inferno quis confidebultibi laboravi in gemitum meo natare facciam tota nocte lectulum meum lacrimis mei stratum meum rigabo caligavit pre amaritudine oculus meus consumptus sub ab universis ostibus mei recedite a me omnes qui operamili iniquitatem quii audivit dominus vocem fletus mei audivit dominus deprecazione meam dominus orazione meam suscipet confuntantur et contembentur vehementet omnes inimici mei reverantur et confundantur subito caparante